Pedonalizzazione del centro storico e sistema di videosorveglianza installato sono solo alcuni degli aspetti che emergono dal questionario somministrato a circa 150 commercianti del centro storico dal Partito Democratico grazie all'analisi tecnica effettuata dal gruppo coordinato da Riccardo Perzio che è il responsabile di attività economica e produttiva del partito. Vengono fuori però dal questionario anche altre problematiche come l'illuminazione che risulta per i commercianti insufficiente oppure il problema degli affitti ancora troppo alti. I commercianti hanno partecipato in massa al questionario i cui risultati sono stati presentati a Palazzetto dei Nobili. Si tratta di una delle iniziative del PD per coinvolgere la popolazione e per trovare soprattutto soluzioni che siano condivise dal basso. Anche il ritorno degli uffici nel centro storico dell'Aquila è richiesto dai commercianti che più volte hanno sollevato questa problematica direttamente al sindaco Pierluigi Biondi. Nasce dall'iniziativa che abbiamo preso con l'esecutivo del PD dell'Aquila poiché abbiamo ritenuto fondamentale andare ad analizzare un nuovo modo di fare politica ovvero partire dall'alto per cercare di coinvolgere tutte quante le attività commerciali e tutti i cittadini all'interno di questa condizione per andare a cercare delle iniziative popolari. Popolari perché le risoluzioni non devono essere calate all'alto o bensì devono coinvolgere i commercianti che ovviamente ci lavorano e quindi ci vivono in questa situazione. Quanti commercianti avete coinvolto nell'iniziativa? Sono stati coinvolti circa 130 commercianti. Sono stati coinvolti e hanno avuto un'ottima risposta da questo punto di vista e devo dire che anche la percentuale di partecipazione è molto alta, quasi il 90% dei commercianti ha risposto. Quindi ci siamo sorpresi quasi di questo coinvolgimento popolare. Devo dire che le problematiche sono chiare. Noi tramite questa analisi che abbiamo fatto adesso cercheremo con una serie anche di coinvolgimenti delle associazioni del centro e di quant'altro attività commerciale di cercare delle proposte da portare in Consiglio Comunale per cercare di risolvere queste situazioni.